ehi laciuron io sono mazates e ben ritrovati qui su expeditions rome si ne rosse la presa di brutto e tra l'altro andando a vedere nel party management e non c'è nessuno che può curarlo per cui dobbiamo tornare dalla nostra legione per sistemarlo spero che non dobbiamo tornare di nuovo indietro fino a lesbo a preoccuparci Remember, tu ci unicoर, solo su unico oda. legislature. Che gli ihrini gli odi nel drago adesso? Non lo so. Come uno di loro ucchivo tutte. Ucchivo u Amsterdam? C'è bizzarro. Perché una dei loro due si è il Спасибо, mi haciato. Non mi ha pensi non t Motto di così, unico o di loro ucciso da. Mi piacciono un sacco questi dialoghi, sono fichissimi Aiuto, qualcuno! Il Tempolo sta fuori! Grazie a Dio che sei qui, devi aiutarti! Il Tempolo sta fuori! Grazie Cosa fare, scusami? Vicino a che stato, scusami? Ah, qua! No, allora, lui ha il... Al coso del muovere in fretta, allora, tu, visto che sei inutile Abbastanza, fai Logistics Così quelli fanno più in fretta, allora tu, vai qua Prendi l'acqua Torna qua, non so se riesce a lanciare Vai E non ha più acqua da prendere E vai qua Tu prendi acqua Vai qua Vai qua E no Vai più avanti Tipo qua Tipo qua Tu anche, vai qua E poi vai... Ma lui, tra l'altro L'acqua Posta lanciarla No Vai là Vai qua No Non è rimasto uno Ma quindi anche io posso ancora lanciare Ah no, perché l'ho già usato una volta Vai a recuperare l'acqua anche tu Poi vai qua Poi vai qua giù E lancia qua Dai, è già molto meglio, ma... Allora, io non posso fare niente Sinerost Può prendere l'acqua Ma non corre tantissimo Ok, vada Si sta espandendo di nuovo sto cavolo di fuoco Allora Tu vai qua Sperando poi riesca a tornare indietro Spento tutto? Si, la si Qui torna indietro Loro hanno esaurito tutte le acque Loro hanno esaurito tutte le acque Vai qua Vai qua Sinerost Ha dell'acqua ma fino a dove può arrivare Allora, vai qua intanto vediamo fino a dove può lanciare da la perché... Beh, qua ci piace Qua ci piace Quanta acqua ci rimane? Non si sa Allora Allora, va tutto Allora, va bene... Ok... Allora, allora... Questa dovrebbe riuscire a... A spegnerla tutto ok mentre invece bestia fai un paio di passi no è ancora fin qua lanciala e rimangono qui due cose eeeh tu hai ancora acqua si vieni qua e lancia quest'acqua e dovremmo farcela ok ottimo e questa aveva già la moderate injury perchè ha picchiato l'altro cioè si è fatto picchiare dall'altro più che altro ok ora parliamo con il ragazzino poi gli avevano salvato l'incendio se non fosse per te il nostro tempio sarebbe ora eeeh cosa sta succedendo non tutti sono fan di apple perchè qualcosa lo devo bruciare ah pensano che sia solo una cosa di Ade eeeh è vero ah non lo so va bene ah ci ha dato un paio di robe water jug water jug ah la schematica anche di water jug ok che comodo se dobbiamo spegnere qualche cosa eeeh di qua dove si va? boh forse da nessuna parte forse ci sono dei premi delle cose ma mi sa che dobbiamo salire di qua dall'altra parte non l'abbiamo percorso l'altro cammino oh guarda che c'è un tesoro qua dovrebbe che strada abbiamo preso da qua siamo andati là mentre invece c'era anche un'altra strada là ma invece da qua si poteva anche salire qua che saliva qua c'è un po' da esplorare insomma vabbè adesso andiamo delitti per delitti poi dove siamo tra l'altro qua ah qua c'è un altro tizio tra l'altro ah ok cosa dice questo rianus sono stato invitato qua per parlare con Teofilus ah sì ha un suo discepolo Rianus sa da dove vieni? il mio diretto sembra familiare il tuo diretto sembra familiare Adramition non so dove sia ah ah ok va bene dove da fa questo? come sta scavando? di notte poi ah questo è il tempio in sé per sé? ma è chiuso mi sa ma che bel tempio ma è fichido guarda che splendido ma non si può entrare qua non si va eh mi sa che dobbiamo parlare con il tizio allora dai dobbiamo parlare con Tintallegro qua come si chiama Teofilus ok ok ah dice che pazzo che stiamo qua visto che stiamo in guerra è molto gradito da parte tua vorrei parlare della tua alleanza con Mithridate un ribelle traduttore pensa di dire a un legato di Roma che cosa è secondo legge cosa no? l'Asia minore è sotto il controllo di Roma ok quali concessioni? quali concessioni? non posso dire che lasceremo la Misia libera togli il tuo supporto e Mithridate e metteremo un nuovo governatore locale della Misia consideravo anche il fatto di lasciarti vivere quindi sarai distrutto niente non hanno intenzione abbiamo anche salvato il tempio ma non che cosa c'è qua? c'è qualcosa di nascosto guardala l'arco di aurito l'arco di aurito prendere in giù di qua mi sa noi siamo arrivati di là questo si riesce a prendere vediamo un attimo ah io ma non è vero? ma no non era velenoso dai molto buono molto buono sappiamo altra roba interessante mi sa di no mi sa che doveva andarcene per forza ma è un peccato speravo di poter risolvere il discorso qua invece niente non ne volevo proprio spero sai che non non quanto tempo ti farai lasciare l'arco ti farai così tu solo lo vedete dal luogo non vedete cosa è come quando siamo soltini ti avrebbe sposato un anno se fosse l'arco sei un amusatore a lui e non è una cosa è una cosa che di dire parla parla come sai ma lei sta con teofilo ma è l'amante di teofilo hai capito il prete di apollo è zenobia? si ho visto che parlavo con teofilo sono julius e prendo un spazio a testa e tu chi sei? il governatore di Musia a cui Theopilus è morto mi dispiace per la tua perdita domina cosa posso fare per te? la sua rivincita a teofilo? d'accordo siamo ben amici nel lì questo ci piace? questo ci piace? mi chiedi di assassinarlo? beh, ho trovato quella parola nonostante, ma sì hai un piano? non lo faccio la violenza non è la mia fortuna, non ho il talento perla questo è per cui ho bisogno di tua salute è eccesso al suo cibo, magari posso procurarti del veleno Theopilus mi conosce e sa che lo risento ma molti preti qui morono con lui ok, molti preti magari uno di loro può essere trattato o trattato a aiutarti? ok, oppure potete attirarlo in un posto isolato e se lo tacassero qua direttamente? eh no, infatti, sarebbe troppo esposto ok, a meno che non ci attacchi lui ha qualche punto debole? va bene, vediamo cosa possiamo fare no nessuno lo merita allora, dobbiamo cercare un modo per far triggerare Teofilo possiamo andare a parlarci di nuovo per caso? vediamo un attimo cosa succede altri preti non so ah, potremmo chiedere l'aiuto magari di quello del del tempio qua dov'è? dov'è che era il tizio del tempio? dov'era? qua? no, non c'è più mi sa oh, c'è un tesoro qua e poi andiamo a vedere qua se c'è qualcosa che possiamo ma non possiamo andare qua c'è un sacco di area inesplorabile questo è la firma di Mithridates la firma di Mithridates è che noi dovremmo discutere questo in circostanze più private ok dobbiamo parlarci con lui nell'accampamento invece questo Rianus che è il suo best friend ma che magari puoi aiutarci in qualche modo sei contento col tuo padrone mi sembra cosa felice la tua discrezione è vera ma il mio Dominus non ha amore per te tu potresti parlare in questo caso no io non diria che mi piace il mio maestro ma lo rispetto ok non gli piace molto ma lo rispetta quindi nulla non avremo aiuto da parte sua e se parliamo con Teofilo di nuovo cosa succede? mi piace la tua compagnia Teofilo allora proverei a fare la cosa forgiata quindi piuttosto che non andiamocene andiamocene all'accampamento e vediamo un attimo di ah però proviamo a parlare con questi due tizi qua sotto che sono gli ultimi video che possiamo sfruttare e poi stacchiamoci sono già 22 minuti sti video stanno sempre durando troppo 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 non penso che ci sia nessuno che stia guardando in questo momento perché i video sono troppo pesanti se qualcuno invece sta guardando mi scrivo qua sotto quella del tuo nome io sono Alexios compro i cittadini e i cittadini dei medici dei vicini dei vicini di Misia e li vendono qui sotto la gaze di Apollon Phoebus ok ripenti anche vino? no ho nessun nome ma se non trovi te stesso in nostra regione di Troas c'è una buona vintner in una vicina sulla costa ok il suo nome è Calis ho comprato da lui nel passato cosa pensi di Teofilo? mi piaceva meglio quando era solo un prezzo perché ha mandato i nostri soldi per chiamare Chisikos ho famiglia in quella città se non si è morto o si è morto la gente dice che era corrompio e elitista non lo so nessuno ma almeno non ha fatto guerra nei nostri vicini c'è gente che non è del tutto contenta cosa vuoi? si nulla si che dobbiamo andarcene proprio sul seio e e già erano seduti ma un attimo sono stato a parlare si e nulla dobbiamo tornare anche perché comunque il nostro sinero se si è fatto molto molto male si è rotto un braccio per cui dovremmo preoccuparci di curarlo e l'unico medico che abbiamo in squadra è lui per cui sarà indispensabile portarlo la però tra l'altro non possiamo spostare qua la legione dobbiamo tornare per forza a a calloni eh vabbè lo faremo nel prossimo episodio detto questo io vi invito a lasciare un mi piace un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non sia già fatto ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti